Baduu 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 Ugg B행 La canna del fuori del sud, la canna del fuori del sud... Ma... Ma... Ma sembra il bido, la canna del fuori, avete scelto la canna del fuori? La scalata del fuori del sud, la canna del fuori... Oh, a la canna del fuori del sud, la canna del fuori, hier... Ma che vuoi! Che vuoi? Ma che si non vuole la malaconda? Ma che cosa vuole la malaconda? Ma che cosa vuole? Ma che ora vuole la malaconda? Che alla fine? La malaconda sarà! No! Una scuola! Una scuola! Una scuola! La scuola! Un'altra scuola! La scuola! Ma? La scuola! No! La cantere per il dispensato. La cantere per il ... 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 Gui ... Ma ... Ma cosa ho da fare la stalla Se non mi ricordi Con le braccia, non mi ricordi La cantere per ... Grazie.